Cari amici, cari concittadini, si è verificato oggi veramente un atto incredibile, incredibile vandalismo ad opera di un uomo che ha distrutto le vetrine della Sala Comunale d'Arte, andando entrando nella Sala Comunale d'Arte, detruppando tutto e quindi oltre all'elemento vandalico e a ciò che è accaduto, la mostra che io ho inaugurato proprio ieri, l'altro giorno, è sospesa, oltre a questo fatto della mostra è sospesa, devo dire, provo un immenso piacere per questo atto di vandalismo, che comunque ha distrutto di me. Mi auguro veramente che sia in questo caso, veramente un attimo di esemplare, ma provo profondo di spiace, grazie a questo punto. Questa volta è sospesa, vi darò, insomma, quando la ritorno.